Un'ondata di furti con scasso nelle periferie e nelle frazioni di Teramo sta preoccupando e non poco cittadini e forze dell'ordine. Le zone maggiormente colpite sono San Nicolò, Villa Mosca, Collatterrato, ma anche i quartieri della Cona e di Fonte Baiano. Nella frazione di Forcella in particolare poi i casi si stanno moltiplicando di ora in ora. I furti avvengono spesso di pomeriggio, c'è qualcuno che riceve i ladri anche due volte al giorno. I residenti, scoraggiati dalla situazione, si stanno organizzando in ronde. Purtroppo a Teramo da affrontare non c'è solo il problema dei furti. In centro storico, durante i fine settimana, bande di giovanissimi, spesso ubriachi, danno vita a risse sanguinose e a schiamazzi violenti fino alle prime luci dell'alba. Sul tema è intervenuto il deputato ex 5 Stelle, oggi della Lega, Antonio Zennaro, che invita tutti a porsi interrogativi seri sul tema della sicurezza nel capoluogo a Prutino. La rapida successione di episodi di microcriminalità che si sta verificando a Teramo, sostiene Zennaro, mette a rischio la tranquillità dei cittadini. Violenze che non sono un buon biglietto da visita, viste dall'esterno. È un errore minimizzare, come pare stia facendo l'amministrazione, conclude il parlamentare, che ha chiesto un incontro al nuovo prefetto. All'attacco di Zennaro non ci sta il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che sottolinea che nessuno può permettersi di cercare disperatamente di recuperare consensi, giocando sull'immagine della città di Teramo e della sua comunità. L'attuale amministrazione comunale, scrive D'Alberto in una nota, non ha mai sottovalutato il tema della sicurezza e non può passare l'immagine di una città pericolosa perché Teramo non lo è. Gli ultimi episodi vanno ricondotti a problematiche attualmente comuni purtroppo a tutte le città italiane. Zennaro si adopera invece, conclude il sindaco di Teramo, affinché il governo adotti provvedimenti volti a rafforzare gli organici delle polizie locali.